Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguri a pochi giorni dal rovinoso incidente avvenuto in Versilia. Oggi segnaliamo un incidente, per certi versi, con modalità analoga, avvenuto sulla A1-A14 tra Bologna-Casalecchio e il Bivio con la Bologna-Taranto. In direzione sud segnaliamo un tamponamento tra quattro mezzi, tre mezzi pesanti e un furgone, il bilancio. Parla di un ferito, segnaliamo anche che il tratto autostradale è stato chiuso ed è stato riaperto soltanto intorno alle 10.40. Nelle prossime ore comunicherò ulteriori sviluppi. Ciao a tutti.